Start, two, one, mystery mission and liftoff! Siamo in un mondo, in una società con una sua gerarchia e dobbiamo sopravvivere. Il gioco è giocabile sia in single player che in multiplayer fino a 10 giocatori. Ed è quello che mi ricorda un po' anche Conan Exiles che abbiamo visto, insomma, questo survival con NPC già esistenti, missioni da fare e tavoli e tool da craftare. Si può giocare, vedete io ho creato il mio personaggio ma lo cancello e lo rifaccio così vi faccio vedere un pochino come funziona. Possiamo creare il personaggio che chiamiamo Indie. È un po' controintuitivo il fatto di... scusate che non riesco a... vabbè facciamo così. Cancella, torno indietro, creo il personaggio, Indie, poi creiamo il mondo allora. Il tipo uomo-donna, poi è impossibile mischiare le teste, faccio niente di che. Queste sono le antenne, giusto per farvi vedere che siamo appunto dei mini elfi, insomma. Possiamo scegliere la barba piena. Sì, rifaccio esattamente come ero prima, insomma. E questa, che è una cosa un po' controintuitiva, cancello il mondo, lo ricreo. Quello che possiamo fare è andare online o no. Quindi andando online possiamo scegliere se è privata o col fuoco amico, la password. Se invece non spuntiamo siamo offline. Peaceful mode, praticamente le creatore non ci attaccano ma ci attaccheranno se le attacchiamo. Tenere l'inventario alla morte oppure no, io lo attivo, però se moriamo perdiamo tutto sulla tomba che lasciamo lì, insomma. Però essendo un gameplay così di prova, insomma. Bisogna scegliere la durata del ciclo giorno-notte, il ciclo stagionale, perché? Perché ci sono le stagioni che cambiano e qui dopo tre ore la stagione cambia. Quindi 180 minuti e la stagione cambierà. 30 minuti un giorno, quindi 15 minuti, 20 minuti di giorno e 10 di notte, una cosa del genere. La vita delle creature, il danno, il danno da caduta e così va e così via. Lo creiamo, lo chiamiamo indie, non l'ho scritto sbagliato ma va bene così, e start. Iniziamo. La cosa che mi ha un po' spiazzato è il fatto che non abbiamo grosse indicazioni, nel senso che nel mondo troveremo delle civette di legno, in tagliate di legno, che ci daranno le indicazioni. In trepidi avanguardie, la vostra regina è malata, gravemente malata, e perché, come vostro re, vi sto chiedendo il vostro aiuto, avventuratevi nelle Overland e cercate una cura a qualsiasi costo. Siate saggi, siate coraggiosi, insomma, rimanete vigili. E questa è la grafica. È un gioco di cui si parla un gran bene e in Early Access costa 24€. Calcolate che Grounded costa 39€, spesso scontato a 29€. Però, ecco, il concetto è un po' diverso. Qua potete parlare. Il gioco, purtroppo, a differenza di Grounded, è completamente inglese. Qui ci dice che verremo istruiti da delle civette intagliate nel legno. Infatti, vedete che c'è la possibilità, premendo V, di andare a vedere le risorse. La cosa un po' scomoda è che premendo F, poi le risorse non le raccogliamo, ma vengono buttate a terra, quindi dobbiamo raccoglierle. Le cose che faremo sono le seguenti. Prendiamo anche la resina. Sì, è un po' fastidioso dopo un po' lo disattivo. Prendiamo tutto quello che si può prendere, perché ci sarà molto utile. E vedete che è tutto fatto all'interno di una società. Cioè, non è che stiamo sopravvivendo, vedendo come succede in Grounded, giocattoli, cose umane che poi noi possiamo utilizzare come rifugio. Qua siamo in un mondo che è già disposto, insomma, è un mondo di fantasia. Quando esamini, ok, premi Tab per aprire l'inventario. Sì, va bene, questo lo sappiamo già. L'ho già fatto in realtà. Io sono andato avanti senza guardarle queste... Ok, praticamente andando con Tab abbiamo il Craft. Abbiamo la mappa e abbiamo il compendio, oltre che il codex che ci dà tutte le cose da fare. Insomma, ci dice Craft il martello. In questo caso poi Moji, apro, posso fare il Builder Hammer, lo faccio, lo trascino sopra le barre veloci in modo da poterlo usare. Posso fare il Campfire, posso fare le varie cose, posso fare anche... Adesso, appena usciamo all'esterno, vi faccio vedere un'altra civetta. Small Folk, siamo noi. I tunnel sono... ok. Sono illuminati da cristalli. Ok. Prendiamo intanto tutto quello che possiamo prendere. Intanto l'inventario è questo, vedete, lo possiamo riempire. Teoricamente non vedo il peso, quindi sarà semplicemente in base allo spazio. Qua ci sono due palle che prendiamo. Possiamo anche parlare con la gente, insomma. Però non... Cioè, giusto per farvi capire che è più orientato al survival, alla Conan Exile, con i personaggi con cui parlare, come fosse un gioco di ruolo, insomma. Graficamente non è uno spettacolo, quello ve lo dico. Stiamo giocando in Full HD con tutto a ultra, quindi... Ma è un indie. È un indie rispetto a Grounded che non lo è. Perché c'è Microsoft dietro. Però, carino, la fiamma, la fiamma è fatta bene. Ora. Siamo usciti all'esterno. Non so cosa devo fare, nel senso che ci sono le sentinelle, possiamo parlare, possiamo fare domande, ci sono diverse cose. Puoi perdere vita per una varietà di fattori. Essere attaccato da una creatura ostile, temperature estreme, cadere da una grande altezza o malnutrizione. Dall'altra parte puoi recuperare salute usando Healing Items. Sì, che tra l'altro dovrei averlo. Eccolo qua, lo metto sull'otto, così almeno ce l'ho disponibile. Sprintare, scivolare, schivare, saltare, consuma stamina e diventi vulnerabile. Infatti, abbiamo la possibilità di arrotolare. Vedete che la stamina va giù. Io prendo legno, perché il legno mi serve. Tra l'altro sono caduto nel fiume e sono morto prima, quindi... Con la mappa puoi vedere la tua posizione nell'overland. La mappa ti mostrerà le location delle altre vanguards. Il tuo spawn location. La tua spawn location. Basta, insomma. Questo dovrebbe essere quanto per quanto riguarda la mappa. Ma l'abbiamo già vista. Che è questa. Che poi si completerà. È anche bella grossa, quindi... Va bene. Cos'è questo? Un mercante? Aspettate che intanto è per un po' di roba. Erne. Ok, questo ci dobbiamo parlare. Posso farti alcune domande? Vedete, potete chiedere tutte le cose. Che tool dovrei craftare? Una mazza di legno. Un'accetta. E una workbench. Va bene, sono pronto ad andare. Credo che non ci sia altro da dire. Sono qui per fare il report sul mio incarico. L'anziano Ludwig Garich è sotto presenza. Puoi craftare le mie armature? Devi portarmi a me tutti i materiali necessari. Ah, ok. Lui mi crafta con le fibre tutte le armature. Perfetto. Ma non ce le ho. Mi spiace. Arrivederci. Adesso devo andare all'anziano El de Alda. Quindi si scende da qui. Però possiamo, recuperando un po' di roba, fibre, mi faccio craftare la armatura. Poi si potranno addomesticare cariature. Io ho visto cavallette, coccinelle e cavalcarle. Adesso io non so dirvi se sia già possibile volare. Penso di sì da quello che ho letto. Sicuramente in futuro, perché c'è scritto che prossimamente nell'estate aggiungeranno ulteriori mount volanti. Quindi secondo me si può già volare. Allora, praticamente strumenti, armi e cibo possono essere craftati dai materiali dell'Overland. Trova le ricette di crafting per imparare come fare nuovi item. Avrai bisogno di una crafting station per craftare queste nuove cose. Con G la crafti. Ok, però io vorrei fare prima la V-Datchet che ho fatto e la piazzo lì, così almeno vediamo se posso abbattere qualcosa di interessante. Vediamo perché ora non vedo granché da abbattere adesso, però io recupero fibre che non si sa mai. Cosa mi dice qua? Stai lontano dall'acqua, lo so. Non puoi notare. Ok, io prima sono morto nel fiume, questo fiume qui. Beh, ho tentato di andare di là. E ho perso tutto. In questo caso invece non perderò tutto. Continuiamo. Beh, adesso volevo provare... Vediamo cosa vuole questa. La temperatura cala di notte. Sì, bisogna mettere un letto. Adesso io non so dove stia andando perché non ho intenzione di farvi vedere la progressione come deve essere, insomma, a seguire il gioco. Voglio giocarmelo un po' liberamente adesso, giusto per vedere. Possiamo abbattere sì. Abbattiamo il funghetto. Vi dico solo che, ecco, non cade, però, insomma, abbiamo preso un po' di roba. Ne parlano veramente bene in questo gioco. Dico la verità perché ho visto della gente che ci faceva delle live e non riusciva più a smettere di giocarci. Adesso io non so dove stia andando. Dovrei andare verso l'Elder, che è di là. Però, sì, poi non è ottimizzatissimo nel senso che c'è qualche callo di framerate, però non dico che sia un indie originale. È sicuramente un indie coraggioso questo. Ci sono cinque armi distinte, tipi di armi. Che fanno? Boia. Oh, che cacchio. Che schifo. Le formiche carpintiere. Sono... No, non sono morto, però... Ok. Però lo trovo molto, molto affascinante. C'è il fatto che mi abbiano attaccato quelle formiche e le hanno fatte benissimo. Cinque distinte armi. Contundente, affilata, che punge, poison fire. Queste sono le ladybug. Tecnicamente non mi attaccano. Sono tra gli... Li chiamo insetti, ma probabilmente non sono insetti che più mi piacciono. Mi portano anche fortuna. Ma anche se ultimamente sono diventato un legale buono e non... Non uccido più neanche i ragni. Li rilascio in libertà. Quindi, quando li becco... Anzi, mi sono molto utili sulle finestre perché d'estate mi catturano le zanzare e le mosche. Quindi, viva i ragni. A parte il ragno violino che mi fa particolarmente schifo. che spero di non vedere qui però non ne ho quel terrore che anche vedendolo in immagine sto male. Allora, tentiamo adesso di fare... Vedete che con il tavolo da crafting possiamo craftare la simple chest che possiamo già fare, le foundation, gli edifici. Quindi possiamo fare una casetta, una porta, insomma, tutto fatto in fibre e il tavolo da preparazione, il cabinet, no, la workbench, mi serve ancora legno ma anche un simple bed. Un simple bed non mi dispiacerebbe. Quindi, ci mettiamo a cercare un po' di legname come obiettivo ultimo. Ah, giusto, potrei attivare con... credo... Fatemi togliere con questo. Edge, carpenter, no, c'è una formica lì. Merd. sprout, fibre, resina, no, eccoli là, sono là. Eccolo qua, il legname. Bella questa zona. Sperando non salti fuori qualcosa dal fiume. Che noi siamo piccolissimi, quindi non vi dico... c'è uno scorpione credo qui sarebbe grande come un boss finale. Un piccone. Non sarebbe male neanche un piccone. Ma non lo abbiamo. Vediamo se si può scavare con questo. Pickaxe or better. Non abbiamo la... niente, qua bisogna fare un ponte o qualcosa perché non possiamo nuotare neanche per le balle. Allora, vediamo un po' se possiamo fare un tavolo da lavoro col crafting. Crafting... No. Con due, sì, così. Simple bed. ma a me più che il letto o la workbench mi... Ok, figata, fotonica. Mettiamo la workbench qui. Ok, me la crafta subito. Vediamo se possiamo fare anche il lettino per dormire. Simple bed. Mi serve uno di legname ancora. Lo recuperiamo subito, dai, senza problemi. Perché il letto è importantissimo perché ci permette di responare. Carpenter? Ma dov'è che non c'è lì? Ah, lì sotto, nell'acqua che sta andando in controllo suo triste destino. Questi mi ricordano molto Valheim. Ah, altra cosa, vabbè, qua mi ha detto che praticamente quando demoliamo qualcosa recuperiamo i materiali. Ma la cosa più importante è che è una cosa disabilitabile nelle impostazioni. Potete anche perdere durabilità, quindi si danneggiano le cose, le vostre strutture quando piove e con le stagioni. Quindi, occhio. Adesso abbiamo preso il legno come se piovesse. Però il mio senso dell'orientamento è veramente scarso perché non mi ricordo più dove ero. Ma dovrebbe essere qua vicino, credo. Sì, qua dietro. Finto che la stamina, no. vedete che poi potete attivare o disattivare questa funzione che vi permette di correre, cioè permette una volta e correre all'infinito. A me non piace tantissimo. Allora, simple bird la mettiamo qua vicino. Ok, e abbiamo creato il nostro, basta, 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 il nostro letto. Quindi, activate spawn point. Ok, adesso proviamo a usarla, vediamo un po'. Builder Hammer, no, ce l'avevano già, la Workbench, ci permette di fare più cose. Pet Whistle, sì, non va cliccato perché lo crafta, se no. Mandibola Pickaxe, mi serve Bull Hunt, Mandibola, quindi dobbiamo uccidere una formica, toro, una spada, club, simple bandage, bello, bello. La crafto subito per la cura, per curarmi, perché infatti non sono messo benissimo, vado su 8 e mi curo. Sì, un pochino cura, ma vorrei farlo ancora. Per la finisce il buff, mi curo ancora. Vediamo se mi porta, sì, perfetto. Adesso, vediamo se troviamo qualche formica, twig, legno, sì, come vi dicevo, in realtà poi c'è la storia da seguire, nel senso che dovremmo andare dall'elder che ci consiglia cosa, dove dobbiamo andare. Ho il punto di spawn, quindi so esattamente dove andare adesso, quando tornerò qui, mi serve un piccone. Adesso, facciamo una prova. Se volessi fare una foundation, twigs and leaf floor, ma la foundation me la fa fare? Sì, spettacolo, vediamo, ok, must be on ground, eh no, non me la fa fare, mannaggia, questo potrebbe essere un problema. Fatemi fare, scusate, ma se io volessi fare questo, sì, ottimo, sempre che non si dannegi, spettacolo, eh, ancora uno, perché siamo un po', non structural support, ok, dobbiamo fare, allora, una foundation, perfetto, bellina la cosa così, bella, siamo arrivati dall'altra parte, abbiamo trovato battle cup, sì, oddio, qualcosina a livello umano c'è anche qui, quindi, non male, dobbiamo trovare, però, la formica bull, in modo da, da farci il piccone, ci serve la, la zanna di sta formica, questa è una cavalletta, talve, fa abbastanza senso, un po' come quando ve le trovate di fronte e non sapete quando e se vi salteranno in faccia, stessa sensazione qui, questa la potete addomesticare e ci potete saltare sopra e quindi andate in giro con la cavalletta, la vostra mount, e io, la racconto spesso sta cosa, ma quando io ero piccolo e si andava in montagna, in montagna l'unica tecnologia che avevo era il Game Boy, e fantasticavo un sacco su videogiochi dove, con tutte le cose che avevo intorno, essendo in montagna, formiche, ragni, cose varie, fantasticavo sul fatto che magari si potesse creare un videogioco così e il videogioco è stato creato. Trent'anni dopo, ma... Ok, vediamo cosa c'è qua dentro. Ah, non si può entrare qua. Che fuffa. Niente, grotta. Metti via. Non so come addomesticarti, quindi mi dispiace, ma stai... Certo che mi faresti comodo. Alla fine siamo arrivati al fiume. Sì che poi in realtà c'era il passaggio, ma va bene. Quest'ora sono morto qua prima. Ho cercato di attraversare, ma non si poteva. Ma me la sto prendendo comodo perché... Allora, è rilassante fino a un certo punto, nel senso che quando poi arriva l'inverno e certe cose non le trovi più nella foresta, diventa un po' un problema. Così come la notte, che magari potresti trovarti di fronte a una temperatura troppo alta. Bulloni, screw, ok. Non so cosa mi serva adesso, ma vediamo se c'è modo magari di creare qualcosa di interessante. La wood sword, la spada, la posso anche fare l'arco, si può fare. Vodaron, con le fibre, pet whistle. Eh sì, ma non l'abbiamo ancora. Ladybug travel kit, che spettacolo, per poter... per tamare la cucinella. Nectar però mi serve. No, non ho ancora nulla per far quello. Diamo un'occhiata se posso fare qualche tavolino interessante. No, queste sono decorazioni. C'è lo stone cutter, ma non ho ancora il cutter, insomma. Simple chest, facciamo il simple chest, lo mettiamo qua vicino al letto. Posso fare altro? Posso fare, vediamo un po', il fuoco da campo che metto qui. Ok, perfetto. Così diamo un'occhiata anche a quello. Allora, use. Possiamo creare la cavalletta, non voglio ucciderla, cioè, mi dispiace. qua non sembra esserci roba tipo di alimentazione del fuoco, questo resta sempre attivo, mentre la cassa invece funziona in questo modo, che non è grandissima, ma la possiamo mettere all'interno, la roba che abbiamo raccolto. Vediamo, amount, sì, con, no. Ah no, ho buttato tutto a terra. Niente, ho sbagliato. Bisogna scegliere così, scegliere tutto. Va bene. Torcia, e va bene. Questo è, è quello che abbiamo visto. Beh, l'inizio è assolutamente promettente, calcolando che, il gioco in cui mi sviluppo, in basso a sinistra, ovviamente non ve l'ho detto, c'è la fame che abbiamo, e abbiamo un po' di fame, e il comfort, praticamente il comfort è abbastanza comfortable al momento, allontanandoci dovrebbe scendere, perché comunque fa freddo la notte. Comunque noi adesso proviamo a dormire. Ah, hai bisogno di essere al coperto per dormire. Niente, ci serve un rifugio, rifugio che non abbiamo, adesso si sta facendo anche notte, quindi prendo la mia torcia, ha una durability, e lo capite dalla barra verde che c'è a fianco di ogni oggetto, quindi la torcia, pian piano che la usate, si consuma, al momento sembra durare parecchio, però, insomma, questo è, ho bisogno di un'ascia, che però è un'ascia un po' più bella di quella che ho. Ragazzi, io salvo qui, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, il gioco sembra essere davvero interessante, e dedicato, e so che ce ne sono tanti giocatori interessati, ai survival di questo tipo, con anche, comunque, se la domanda è, ma si può giocare da soli? sì, perché avete visto che ci sono tutti gli NPC con le missioni da fare, quindi è ampiamente godibile anche da soli, ovviamente con amici ci si liberate di più. Fatemi sapere, ovviamente sotto nei commenti, come al solito, e alla prossima. Ciao, ciao.